Grazie sono Edixmax, benvenuti in questo nonissimo video, oggi ragazzi siamo tornati su Stambol Guys Perchè ragazzi lo finiamo o no questo bus qui? Cavolo, siamo ancora fermi qua Dobbiamo anche superare 75 corone, quindi questo qua è un video epico Vi ricordo un like, un'iscrizione, una campanella Cercate Edixmax su TikTok e su Discord, ci sono i link in descrizione Se volete fare una piccola donazione, primo link in descrizione Tutte le donazioni sono apprezzate Vedremo che sarà il quarto donator della storia Chi vorrà essere nella storia, primo link in descrizione Andiamo a fare il giro fortunato intanto, gratis Vediamo un po' cosa esce Andiamo un po' Speriamo una leggendare, ma non uscirà mai Dobbiamo finire sto passo ragazzi, io devo giocare un po' Anzi un po' tanto Una bella rara, una non comune Vabbè ragazzi, una non comune io non ce l'ho ancora, Lionel Pessi Anzi ragazzi andiamo a usare Lionel Pessi Facciamo, c'ho anche Cristiano Valdo se non mi sbaglio Dov'è che è? Dov'è, dov'è, dov'è? Dov'è Cristiano Valdo? Io ho, sia Lionel Messi, sia Cristiano Valdo Ma dov'è sto Lionel Messi? Cioè Lionel Pessi volevo dire Dov'è? Eccolo qua Andiamo ad usare Lionel Pessi ragazzi Vediamo un po' Spin go round ragazzi Vabbè siamo un po' al volume che è troppo alto ragazzi Dopo non mi sentite Vediamo un po' come se la cava Lionel Pessi Se c'è footbrawl Sì footbrawl, non siamo mica su Brawl Stars Se c'è Se c'è Sambul Soccer E posso capirlo per una volta Siccome Stiamo usando Lionel Pessi Che poi Non so se l'avete notato Ma mentre cammina Tira fuori i soldi Mi sembra giusto Siccome Lionel Messi È ricco Quindi ragazzi Ce sta, ce sta Ragazzi siamo qualificati i primi Molto bene Non ci picchiamo al secondo round Cerchiamo di vincere Ma ragazzi io devo finire sto bus ragazzi Se no non riusciamo a aprirlo Tile fall Tile fall ragazzi Sono bello carico ragazzi Adesso mi tocca giocare un po' a stumble Se no il pass Non si definisce Devo prendere il pugno ragazzi Sono un po' indietro Devo ammettere No 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 Sono caduto qua Ok no Sono molto evidente gli altri Molto bene Qua saltiamo Destra o sinistra? Ok era sinistra Non mi date i pugni Ok Ok ragazzi Non so se mi qualifico Sì mi sono qualificato Ragazzi Spam di forza di xmax Nei commenti Perché ragazzi La vinciamo questa Ve lo prometto Django roll Ragazzi È molto complicata In un solo Siamo a recuperare Cioè a superare Le 75 corone Perché Non c'è bisogno Di recuperarle Siamo già a 75 Allora c'è questo gattino Davanti Ma uo Ma cosa è successo? Ecco i miei problemi Con un Django roll Ma perché Devo rinascere Dall'altra parte Del mondo? Vabbè raga Ma cos'è Una presa in giro Spero ragazzi Cioè veramente Ancora sono No vabbè I don't have parole Ragazzi Non ho veramente parole Cioè Ma veramente Ma pure sti bug qui Ma Cioè ogni tanto Non capisco come fa Stumbleguise Essere così popolare Perché veramente Ragazzi Io non ho parole Non ho veramente parole Ragazzi Partiamo Passiamo già Alla prossima partita Dimentichiamoci L'altra partita Cioè Siamo arrivati in finale Però veramente Non ho parole Sti bug di Stumbleguise Dimentichiamoci Dimentichiamoci L'altra partita Spin Go round Ragazzi Questa qua È la partita buona Ragazzi Questa qua la vinciamo Stasera ragazzi Non escono mappe con bug Ce la possiamo fare a vincere Forse l'avrei vinta Ragazzi Con la skin Ligione Il pesci Ok Dobbiamo saltare qua Intanto Saltiamo qui Saltiamo qui Molto bene Se va avanti Se va avanti Mi aspetto stasera In live alle 20 e 30 Ovviamente io devo cadere Vabbè ragazzi Sono uno scarsone I am scarsone Ragazzi Mi aspetto stasera In live alle 20 e 30 Non mancate Ragazzi Che Spacchiamo tutto Ragazzi Ma cosa succede No vabbè Se non mi qualifico Ma voi Voi mi dovete dire Cosa mi sta succedendo Ragazzi Ma com'è possibile Se non mi qualifico Neanche al primo round Mamma mia Ragazzi Noi dobbiamo finire Il pass ragazzi E noi dobbiamo finire Il pass Mamma mia Ragazzi Ma dimentichiamoci Pure questa Voglio la win Per favore Stumble guys Mamma mia Ancora spingo round La terza volta di fila Che mi riesce Ragazzi Terza volta di fila Anche la prima partita Allora Se non vinco questa I don't have parole Non ho veramente parole Dobbiamo finire Questo pass E non possiamo neanche Vincere una partita Saltiamo qua Oh sto Stumble round Mi ha rotto Mi ha veramente rotto Le scatole Basta Stumble round Basta I have to win Mamma mia Già sono uno Scarsun Già I have problemi Proprio come Con il gioco C'è proprio dei problemi Con il gioco Allora Saltiamo qui Saltiamo qui Non voglio cadere Ragazzi Quindi andiamo con calma Tanto è il secondo round Quindi ragazzi Non abbiamo Bisogno di correre Andiamo con calma Molto bene Saltiamo qui Che non facciamo in tempo A fare il trick Andiamo a fare qua il trick Qua dobbiamo farlo Il trick Molto bene Spostiamo la visuale Vi ricordo tutti Un bel like E una bella iscrizione Con un campanello attiva Ragazzi Vi aspetto stasera Il live alle 20 e 30 Non mancate Oh ragazzi Ci siamo qualificati primi Molto bene Speriamo di vincerla questa Lava rush ragazzi È molto complicata Lava rush È molto complicata Allora noi ci proviamo A fare il trick Ma ci vuole anche fortuna Ragazzi Ci vuole anche Fortuna Raga Molta fortuna E non sto scherzando Ragazzi Ci vuole molta fortuna Ok ragazzi Sono passato Molto bene Raga la sto giocando perfetta Eh raga Ho avuto troppa fredda Per me Non so se riesco a passare Sono riuscito a passare Mamma mia Oh Ma è di Xmax Vediamo se riusciamo a superare Le 75 corone Proprio oggi Forse riusciamo a superarle Ragazzi Forse Abbiamo superato Le 75 corone Dopo due partite Veramente schifose Da buttar via Da dimenticare Ed Xmax La vince Con la skin di Lionel Pessi Appena trovata Ragazzi Arriverà un video Dove proveremo Cristiano Valdo Molto bello Grande Ed Xmax Yt Molto bene Grande win Grande win per noi Ragazzi Manca poco Alla fine del passo Adesso io giocherò un po' Perché ragazzi Se no non riusciamo a vincere Ci prendiamo pure Questi passi qui Dai prendiamoci Un video E mancano Un po' di soldi Ragazzi Devo veramente Affrettarmi molto velocemente Ragazzi Grazie mille Siamo arrivati a 76 corone Molto bene Sono molto contento Un like Un'iscrizione Una campanella Cercate EdXmax Su dei token su discord Ci sono i link in descrizione Se volete fare una piccola donazione Primo link in descrizione Tutte le donazioni sono apprezzate Vedremo chi sarà il quarto donatore della storia Ragazzi Primo link in descrizione Se volete rimanere nella storia Di EdXmax Detto questo Ragazzi Vi aspetto dopo Alle 20 e 30 In live stasera Ciao a tutti ragazzi E a dopo in live Ciao